Ciao a tutti ragazzi, qui di Black Game. Inizio scusandomi se in questo periodo sto caricando pochi video, ma sono veramente molto impegnato e mi resta veramente a poco tempo per il video. Tuttavia, su vostra richiesta, oggi sono qui per approfondire il discorso delle leghe su Black Ops 2. Lega, ecco innanzitutto se volete seguire, se volete diciamo intanto leggervi l'articolo che ho scritto su Wanya, lo trovate in descrizione appunto, parla delle leghe. Partiamo subito, ok? La lega è un nuovo sistema introdotto appunto su questo gioco che presenta un nuovo tipo di classificazione e un nuovo tipo di matchmaking. Infatti il matchmaking si basa sulle abilità di ciascun giocatore. Infatti, più o meno il metodo di ricerca delle partite cercherà di metterci in lobby, ossia in partite, con altri giocatori del nostro stesso livello di gioco. E come fa a riconoscere il nostro livello di gioco? Praticamente, noi innanzitutto dobbiamo giocare. Prima di iniziare ci vengono chieste 5 partite di prova, o meglio, 5 partite di posizionamento. Una volta completate queste 5 partite veniamo classificati, ossia inseriti, in una delle 6 categorie o 6 divisioni che vi sono presenti nella lega. Queste 6 divisioni sono quelle che vedete in questa immagine, o meglio, quelle che vi mostro adesso. La divisione più bassa è la divisione di ferro, corrisponde ai peggiori, o meglio, ai primi, partendo dal basso verso l'alto, ai primi 20% dei giocatori. Poi abbiamo la divisione di bronzo che corrisponde ai successivi 20%, la divisione di argento ai successivi 20%, la divisione di oro ad altri 20% rispetto sempre alla precedente. Poi abbiamo la divisione di platino che corrisponde ai successivi 18% e la divisione master, o comunque la divisione più alta, che corrisponde ai migliori, ossia al top 2% dei giocatori che appunto partecipano alla lega. La lega praticamente si divide in stagioni. La stagione ha la durata di un mese. Ogni stagione inizia l'1 di ciascun mese e finisce il 30, il 31 o il 29 di ciascun mese. Praticamente ogni mese l'obiettivo che si pone a ciascun giocatore che partecipa alla lega è quello di classificarsi il meglio possibile, perché ci sarà una classifica, ecco, all'interno di questa stagione, all'interno della propria divisione, o addirittura tra tutte le divisioni. Vediamo un po' anche in che modo veniamo inseriti in una divisione. Praticamente noi facendo 5 partite di posizionamento, il gioco guarda quante partite vinciamo, quante ne perdiamo, quanti punti facciamo al minuto, quante volte moriamo, se catturiamo o no, conquistiamo o no obiettivi, se piazziamo bombe, ecco, perché abbiamo, diciamo, elenchi di gioco, tra diversi elenchi di gioco, ma comunque quasi sempre vi sono modalità che cambiano, ossia da tipo moshpit, ossia che cambiano, abbiamo una volta demolizione, una volta dominio, una volta deathmatch, ecco. Mentre dopo, vabbè, ci sarà un altro tipo di elenco del quale vi parlerò tra pochissimo. E un'altra nota, praticamente, un altro punto, è quello che prima di ciascuna partita noi non vediamo i nomi nel livello degli altri giocatori, infatti leggiamo sempre la scritta giocatore corrispondente. E vi sono tre elenchi di gioco principali, vi è la serie suprema, la serie moshpit e la serie deathmatch a squadre. La serie suprema, o meglio, serie campioni, no, serie suprema, che cosa sto dicendo, scusate, serie suprema, si gioca praticamente a squadre, o anche da soli, comunque si gioca in 4 contro 4, cioè, quando dico da soli, intendo senza aver fatto un gruppo, e vi sono regole di tipo competitivo, e infatti, vi sono bannati, cioè, non si possono utilizzare gli approvvigionamenti, l'infiltrazione tattica, lo smove, l'RPG o il lanciagranate, ed è anche disabilitato lo spettatore in terza persona. Poi abbiamo un'altra serie, chiamata moshpit, si gioca in modo individuale, ossia senza fare nessun gruppo, però si gioca comunque in 6 contro 6, e vi sono diverse modalità, con regole standard, ossia la mappa cambia, e cambia anche la modalità che potremo scegliere. Poi abbiamo la serie team deathmatch, ossia deathmatch a squadre, si gioca in 6 contro 6, sempre da soli, senza fare nessun gruppo, infatti nella classifica compariremo in modo individuale, non a livello di team, di squadra. E parliamo anche di un'altra cosa, chiamata bonus settimanale. Ogni settimana a noi viene chiesto di vincere un numero di partite, ad esempio ci vengono chieste 20 partite per ottenere bonus settimanali, se noi riusciamo a vincere 20 partite entro la fine della settimana, ci viene dato questo bonus settimanale che praticamente ci consente di salire, aumentare di grado nella classifica, perché in ciascuna serie, ad esempio, divisione oro, ci sono dei gradi, grado 1, grado 2, grado 3, eccetera, eccetera. Noi siamo ad esempio al grado 125, vogliamo migliorare fino ad arrivare ad esempio al grado 1, per poi salire alla successiva, ecco, noi possiamo anche salire, cambiare divisione se vinciamo partite, oppure scendere ad esempio se le perdiamo. E alla fine di ogni settimana, se raggiungiamo un numero minimo di vittorie, ci viene dato un bonus che ci consente di salire più velocemente, e a fine mese, se noi ogni settimana abbiamo ottenuto questo bonus, ci viene dato un ulteriore bonus che praticamente ci consente di salire ancora di più all'interno della classifica. Ecco, oltre a giocare, cioè, oltre a comunque partecipare alle leghe, la lega consente anche di livellare, diciamo, con il proprio profilo online, praticamente, se noi siamo al livello 30, giocando online normalmente, giochiamo in lega, che comunque è online, però è separato dagli elenchi di gioco, ehm, del, come si dice, degli elenchi di gioco online, ecco, ci dà comunque un tot di numeri, di punti esperienza per livellare, mi pare che ogni vittoria ci dia 1500 punti esperienza per salire di livello anche con il nostro profilo normale. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, qui, di Black Game, al prossimo video.